Degustazioni, convegni, approfondimenti e seminari. Il prosecco di OCG di Conegliano e Valdobbiadene va in scena al castello di San Salvatore a Sussegana. Mancano ormai pochi giorni, poi inizierà la rassegna Vino in Villa 2011. Sabato 21 maggio, domenica 22, lunedì 23, quindi questo fine settimana apre i battenti Vino in Villa. La manifestazione più importante che realizziamo come consorzio di tutela all'interno della denominazione Conegliano e Valdobbiadene si svolgerà al castello di San Salvatore a Sussegana, posto straordinario per vedere e toccare direttamente con mano un territorio straordinario come quello di Conegliano e Valdobbiadene che produce un prosecco superiore. 300 vini in mostra, una selezione di specialità gastronomiche rigorosamente fatte a mano. Il pubblico potrà provare esperienze uniche partecipando ad un vero e proprio simposio dedicato al vino nella storia classica. I visitatori degusteranno inoltre le rive, la nuova tipologia di vino introdotta con la DOCG. Novità di quest'anno, il fatto a mano perché vogliamo valorizzare quei singoli microterritori che noi identifichiamo come rive e sono espressioni di grande qualità legate ad una singola frazione o ad un singolo comune, dove è importante il territorio, dove è importante il clima, ma dove è soprattutto importante l'uomo.